E' finito in parità l'incontro tra Cesena e Crotone, disputatosi due giorni fa Aldino Muzzi nell'anticipo della dodicesima giornata. 0-0 il risultato conquistato assieme agli elogi di buona parte della stampa nazionale prodiga di complimenti per la sagacia tattica e tecnica degli uomini di Gasperini. Insomma, un gran bel Crotone poche volte in difficoltà e spesso vicino al successo pieno. Del resto, le ultime quotazioni degli avversari non lasciavano presupporre niente di positivo. Invece, il nostro Crotone ritornando a far punti in notturna dopo il pareggio di Torino, l'ultimo, seguito in ordine cronologico da ben quattro sconfitte, ha dimostrato di poter e sapere affrontare tutti alla pari. Un risultato che allunga la nostra classifica, che ci porta al ridosso delle prime e che soprattutto ci fa capire alla fine della dodicesima di andata quanto di buono abbia realizzato questa squadra, che rispetto al cammino della stagione dell'anno scorso viaggia decisamente forte e vicinissima ad una media promozione. 18 punti, 10 in più dell'anno scorso, sono il 95% di quanto incamerato al Giro di Boa nella prima parte del 2004-2005. Ed incrociando le dita è un obbligo farlo. A 11 gare dal termine i pensieri non possono essere altro che ottimisti. Naturalmente il cammino è ancora così lungo e tortuoso che sarebbe da sciocchi pensare di essere già arrivati. Come del resto saremmo ugualmente degli sciocchi se non pensassimo di essere ad un buon punto, soprattutto freschi, tonici e forti, da far tremare tutte le avversarie. A garanzia di tutto ciò una folta rosa ben composta e competitiva in tutti i reparti. Sicuramente questo è il segreto, se così vogliamo definirlo, di questo attuale crotone, in diverse occasioni più votato a specchiarsi in se stesso, ma spesso bello da vedersi e capace di annichilire tutti. Forse qualche volta ci è mancata un po' di concretezza, forse qualche volta siamo stati più ingenui che scaltri, altre volte poco cinici, ma di certo, e questo non è poco quanto tanto sicuro, quando tutto gira alla quasi perfezione non ce n'è per nessuno. Qualcuno si rammarica per qualche risultato sprecato agli sgoccioli, altri ancora per un pizzico di fortuna in meno, in pochi per qualche scelta tecnica non azzeccata, ma sta di fatto che il crotone è questo e che dovremo abituarci ai suoi risultati sino alla fine del campionato. A quell'ultima giornata e a quando sarà necessario tirare le somme. Intanto viviamo giornata per giornata, ne abbiamo archiviate dodici e ne abbiamo da affrontare ancora undici. La prossima ci opporrà il Pescara, stanco e stressato dal posticipo di ieri contro il Rimini. Forse un giorno in più di riposo varrà qualcosa, forse niente. sta di fatto che bisognerà affrontare la squadra dell'ex Matteini con la giusta determinazione e concentrazione. La classifica lo impone, ma ad imporlo più di tutti sono i tifosi, che senza illudersi vogliono continuare a nutrire grandi speranze e facendo attenzione, come dice Gasperini, a non sopravvalutare più di tanto questa squadra, ma a restare con i piedi ben piantati in terra. Grazie. 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 Grazie.